Un'asta benetica, simbolo di solidarietà ma anche di inclusione. Si terrà all'anificio Fratelli Balli di Prato la terza edizione di Arte in Fabrica, l'iniziativa promossa da Kepos per raccogliere anche fondi per la propria attività. L'appuntamento è per giovedì 24 ottobre al Fabricone Storico, dove la casa d'asta Farsetti Arte batterà le 72 opere, visibili all'anificio a partire dalle ore 18. A questo evento raccoglie industria, arte e disabilità, quindi si costringe dei mondi che normalmente sarebbero distanti l'uno dall'altro a convivere insieme, sia far vedere la disabilità in maniera propositiva, cioè che si può fare qualcosa di bello e di importante. Gli artisti hanno avverito veramente in maniera cospicua, quindi sono 72 opere, 13 sono opere dei nostri artisti della Kepos, i ragazzi, e una cinquantina, 40-48 artisti locali e anche fuori regione. L'evento è stato realizzato anche in collaborazione con il Comune di Prato, Giorgio Diddi, Matteo Pierozzi, Matteo Pocchi, ai quali si sono aggiunti anche Flavio Wu, rappresentante dell'Associazione Giovani Imprenditori Cinesi in Europa, e Anna Sanesi, storica volontaria della Kepos. Un grande orgoglio ospitare un evento del genere, perché continua un po' l'apertura che l'anificio Balli Fabricone Storico sta facendo nei confronti della città e di tutto quello che intorno ruota. È un evento, lo definirei inclusivo, che racchiude un po' tre parole che un po' fanno parte del nostro mood, diciamo, quotidiano, che è il lavorare, creare e donare.